Parliamo oggi della media, la varianza, la deviazione standard di una variabile casuale, di una variabile aleatoria. Qualcuno di voi potrebbe dire, beh, ma noi sappiamo già che cos'è la media, la varianza, la deviazione standard del risultato di un certo esperimento. Se misuriamo, ad esempio, il periodo di un pendolo, facciamo la misura 50 volte, daremo come la misura attendibile dell'esperimento la media e daremo una varianza per assegnare l'errore. Potreste dire, cosa c'entra questo con la probabilità? Questo c'entra con la probabilità perché abbiamo detto che la probabilità ha diverse formulazioni equivalenti e una di queste è la probabilità frequentista. Cioè, dato un certo esperimento, fatto un certo numero di volte, possiamo ricavare la probabilità che un certo evento avvenga sullo storico dell'esperimento. Ad esempio, se un cestista ha tirato 100 tiri liberi nella sua carriera e il 60% di questi è andato a buon fine, il tiro libero successivo diremo che ha probabilità 60% di essere realizzato. E dunque c'è questo legame tra un esperimento con un elevato numero di prove e la probabilità che nell'esperimento successivo si ottenga un certo risultato. Se questo lo estendiamo non a un evento solamente ma a una variabile aleatoria, otteniamo ciò che vogliamo descrivere adesso, cioè la distribuzione della media e della varianza della dediazione standard di una variabile aleatoria. Dunque supponiamo che la nostra variabile x abbia come possibili risultati un certo numero x1, x2, xn e supponiamo di aver fatto degli esperimenti per cui x1 si è realizzato con una frequenza f1, x2 con una frequenza f2, xn con una frequenza fn. Allora beh, in statistica possiamo ben definire la media del risultato x come x1 per f1 più x2 per f2 più xn per fn fratto il numero totale di prove che sarà la somma di tutte le frequenze. Questo è come abbiamo già definito il valore medio della variabile x, però adesso che abbiamo la definizione di probabilità, se dividiamo in n frazioni, la frazione algebrica che dà la definizione del valore medio otterremo questa uguaglianza, il valore medio dato da x1 per f1 su n più x2 per f2 su n più f3 per x3 su n e così via. E ricordate se il numero di prove è molto elevato questo numero tende alla probabilità che avvenga l'evento 1 e dunque legando la concezione frequentista con la concezione classica di probabilità otteniamo che il valore medio di un certo evento alatorio sarà dato dalla somma per i che va da 1 ad n, di tutti i valori ognuno moltiplicato per la sua probabilità. Dunque questo è un'estensione del concetto di valore medio. Per quanto riguarda la probabilità questo numero si chiama anche speranza matematica perché l'idea è che se noi dovessimo ripetere un'altra volta l'esperimento ci aspettiamo che la media che cosa mi dice se il numero di esperimenti è avvenuto molte volte che mediamente il risultato dovrebbe dare un certo risultato scusate dovrebbe essere il valore medio o la speranza matematica il valore atteso negli esperimenti di fisica l'abbiamo l'abbiamo descritto in questo modo questo valore atteso questo valore medio sappiamo che può essere distribuito in un certo modo facciamo un esempio prendiamo una variabile x con una certa distribuzione di probabilità supponiamo un certo numero di valori 9 12 15 18 e 21 prendo l'esempio dal vostro libro 0,1 0,2 0,4 0,2 e 0,1 sono le probabilità associate ad ogni possibile risultato di questa variabile aleatoria naturalmente le probabilità sommano a 1 e questo vedete cosa vuol dire vuol dire che se mettiamo qui x e qui f di x 9 12 15 18 e 21 qui avremo un certo valore qui 0,1 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 qui questo caso, quale sarà il valore atteso? La speranza matematica o il valore medio di questa distribuzione sarà 9 per 0,1 più 12 per 0,2 più 15 per 0,4 più 18 per 0,2 più 21 per 0,1, ora questo calcolo fa 15, il valore medio che talvolta si indica anche con la lettera mi greca è 15, però capite che se faccio l'esperimento non sono certo, se rifaccio l'esperimento non sono certo di ottenere 15, 15 verrà ottenuto con il 40 per cento della probabilità secondo questa distribuzione, 18 col 20, 12 col 20, 9 col 10, 21 col 10, ma il valore medio, il valore che mi aspetto di ottenere più volte se ripeto l'esperimento è il valore 15 e in statistica se ricordate avevamo definito degli indicatori che ci dicessero quanto questo valore è sparpagliato dal valore minimo e il valore massimo. Il primo indicatore è lo scarto, lo scarto che cos'è? Lo scarto è il valore meno il valore medio, cioè quanto il valore si sposta rispetto al valore medio cosa vuol dire? Il 9 rispetto al 15 si scarta di meno 6, è distante meno 6 dal valore 15, il 12 è distante meno 3, il 15 è distante 0, il 18 è distante più 3 e il 21 è distante più 6. Quindi con che probabilità mi scosto di meno 6 dal valore? Beh, ricordate una variabile aleatoria meno una costante, il valore medio è una costante è il 15, ha la stessa distribuzione di probabilità di x. L'abbiamo visto discutendo le operazioni con le variabili aleatorie, per cui p di x meno mi deve essere uguale a p di x. Quindi lo scarto può essere un indicatore che mi dice quanto i possibili valori della variabile aleatoria si spostano rispetto al valore medio lo scarto solitamente non viene utilizzato o viene utilizzato poco perché in quanto variabile aleatoria non è molto significativa perché se facciamo il valore medio dello scarto otteniamo 0 il valore medio dello scarto è sempre 0 questo perché? Proviamo a calcolarci il valore medio dello scarto questo sarà lo scarto 1 meno la media moltiplicato per la probabilità di x1 più lo scarto 2 meno la media moltiplicato per la probabilità di x2 e avanti così fino allo scarto n meno il valore medio moltiplicato per la probabilità di xn allora questo è x1 chiamiamola p1 meno il valore medio quindi lo chiamiamolo mi p1 più x2 p2 meno mi p2 più xn pn meno mi pn ora se mettiamo assieme tutti i termini x1 più 1 più x2 p2 più xn pn che cosa otteniamo? otteniamo il valore medio mi meno mi che moltiplica p1 più p2 più p2 più pn questo valore qui per definizione di probabilità deve essere 1 dunque il valore medio dello scarto è sempre 0 dunque per questo motivo lo scarto non è considerato come un valore significativo una variabile scusate una variabile aleatoria che rispetto alla dispersione dei valori è significativa la variabile invece significativa è la varianza la varianza come è definita? la varianza è definita in questo modo come x meno il valore medio al quadrato ok anzi la varianza è il valore medio di questa variabile casuale ed è l'indicatore della dispersione allora proviamo a vedere che cosa succede perché non prendiamo x meno mi ma x meno mi al quadrato perché il motivo per cui si andava ad annullare la media dello scarto era questo segno meno quindi diciamo che in qualche modo gli scarti positivi vanno a bilanciare gli scarti negativi allora se noi invece andiamo a considerare tutti gli scarti al quadrato quindi saranno tutti i contributi positivi e immaginiamo che questa dispersione non possa annullarsi l'unico modo per annullare questa dispersione è che tutti i termini l'unico modo per cui la somma di numeri positivi sia 0 è che tutti i termini siano 0 dunque la varianza quindi che cos'è è x1 meno mi al quadrato per p1 più xn meno mi al quadrato pn e come faccio a ah sì scusate questo perché perché data la variabile x meno mi al quadrato la probabilità di x meno mi al quadrato da che cosa è data beh vedete abbiamo nel caso di prima il primo scarto era meno 6 e diventa 36 e la probabilità è sempre la stessa il secondo è meno 3 scusate meno 3 al quadrato diventa più 9 sempre con la stessa probabilità per le regole che ci siamo dati ricordate il quadrato se andiamo a sommare i termini i 2,36 che vengono fuori cambia ma la distribuzione di probabilità resta la stessa per ogni singolo elemento 0,236 0,1 dunque non sommiamo questi due 36 ma li teniamo separati perché abbiamo x1 meno mi quindi le probabilità in questo caso qui p di x meno mi al quadrato è uguale a p di x in questo caso anche in questo caso dunque la definizione di varianza è esattamente quella e la deviazione standard è semplicemente la varianza la varianza solitamente si indica con sigma al quadrato di x sotto radice quindi sigma di x la deviazione standard ed è la radice quadrata della varianza perché estraiamo la radice quadrata? beh perché vogliamo avere una stima si chiama anche ricordate scarto quadratico medio è una media degli scarti al quadrato quindi per avere in questo senso una media degli scarti senza segno perché abbiamo detto la media degli scarti è sempre zero abbiamo la deviazione standard cioè la radice quadrata della varianza quindi in realtà se ci pensate questi sono i concetti che abbiamo già studiato in statistica valore medio scarto varianza deviazione standard grazie all'interpretazione frequentista della probabilità possiamo trasportare esattamente questi concetti in teoria della probabilità ora abbiamo alcune proprietà di media e varianza ve le cito perché questo potrebbe essere un esercizio che potete fare ed eventualmente inviarmi in questo caso magari valuterò le dimostrazioni che che farete rispetto a queste a queste proprietà allora le proprietà della media allora vediamo la prima proprietà della media se x è costante cioè assuma sempre lo stesso valore allora la media è il valore a costante cioè se l'unico valore che x è costante significa x può assumere solo il valore a allora la sua media sarà a 2 la media di k volte x è uguale a k per la media di x con k un numero reale 3 la media di x più k è uguale alla media di x più k con k sempre appartenente ai numeri reali 4 la media di x più y con y un'altra variabile casuale è la media di x più la media di y queste dunque sono le proprietà della media per quanto riguarda la varianza abbiamo che beh la prima cosa che sigma che sigma quadro di x è uguale alla media di x alla seconda meno la media di x alla seconda la seconda che la varianza di k x è uguale a k quadro per la varianza di x la terza la terza che la varianza di x più k è uguale alla varianza di x dove k è sempre un numero un numero reale e la quarta che la varianza di x più y è uguale alla varianza di x più la varianza di y se x e y sono indipendenti allora provate a dimostrare quindi queste sono proprietà della varianza provate a dimostrare queste proprietà poi magari mi inviate il foglio o il file dove avete fatto le dimostrazioni e magari si possono valutare ora nel caso in cui se x e y non sono indipendenti e qui potremmo anche fare degli esempi allora indichiamo quindi vuol dire che la varianza della somma è diversa dalla somma delle varianze indichiamo con covarianza cov x y la varianza della somma meno la somma delle varianze fratto 2 varianza